Ciao Nazione Rosso Nera! Stasera è arrivata a Milano una notizia dell'ultima ora che ha colto di sorpresa i tifosi. Nessuno se lo aspettava. Vi racconterò tutti i dettagli di questa bomba arrivata direttamente da Milanello, ma prima iscrivetevi a questo canale per non perdere nessuna novità del nostro Rosso Nero. Non dimenticare di lasciare mi piace a questo video e di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti del nostro club. Andiamo! Durante la finestra di mercato estiva, lo Stade Rennais, squadra francese della Ligue 1, ha tentato di ingaggiare il nostro attaccante Olivier Giraud. Lo riporta all'equipe. Lo Stade Rennais è interessato anche a Romelu Lukaku del Chelsea e Hugo Echitich e del PSG mentre cercano di rafforzare il loro settore offensivo. Secondo la fonte francese, il club della Ligue 1 avrebbe addirittura indagato sulla possibilità che Giraud tornasse in Francia, dove in precedenza aveva giocato nel Montpellier. Il nostro 36enne però non ha mostrato alcun interesse alla prospettiva di lasciare il Milan. Giraud è determinato a essere il nostro attaccante di prima scelta in questa stagione mentre cerchiamo di lottare per il titolo di Serie A e progredire in Champions League. Riconosci il ruolo cruciale che giocherà nella nostra squadra. Inoltre, lo Stade Rennais ha provato anche Lukaku verso la fine del mercato, ma il belga si era già impegnato con la Roma e con l'allenatore José Mourinho. Adesso vorrei sapere la tua opinione sul rifiuto di Giraud di trasferirsi allo Stade Rennais. Pensi che avrà un ruolo centrale nella nostra corsa al titolo in questa stagione? Lascia i tuoi commenti qui sotto. E non dimenticate di lasciare mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità dal Milan. Forza Milan, sempre! Cerchio rosso, cerchio blu, cerchio medio. Narratore, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per non perdere nessun aggiornamento sul Milan.